Allora, cominciamo l'ultima parte del percorso che abbiamo fatto insieme. L'obiettivo è farvi un breve riepilogo delle cose che ci siamo detti facendo anche qualche passo avanti. E poi andare nel merito di qualche case history per farvi vedere come normalmente lavoriamo e anche quello che è un po' il risultato finale del progetto nel momento in cui il progetto da pensiero diventa anche realtà. Quindi la cosa che mi auguro sia stata chiara a tutti attraverso non solo le parole ma anche il lavoro che abbiamo fatto insieme è che il branded content è scienza non fantascienza nel senso che è non solo un'opportunità e un obbligo che ormai le brand si trovano a dover prendere in considerazione nel momento in cui ragionano rispetto ad una strategia di comunicazione e obiettivi di comunicazione. Ma anche il farlo non è di per sé come fare un'operazione a cuore aperto ma significa semplicemente utilizzare in maniera diversa degli strumenti che abbiamo in mano che sono banalmente ma non banalmente una competenza di marketing, la capacità di analizzare quindi degli obiettivi e delle strategie di comunicazione e la capacità di maneggiare degli strumenti per fare in modo che i contenuti non siano più ghettizzati solo all'interno di una comunicazione istituzionale di marca quindi degli spot ma possano entrare nel magico mondo dei contenuti e quindi le brand possano non essere solo aziende ma possano diventare effettivamente editori. Cosa significa essere editori? Significa alimentare sin dall'inizio i contenuti con quelli che sono i propri valori e le proprie indicazioni. Questo probabilmente non parte, peccato, però vi manderò il link e quindi andiamo avanti. Cosa succede in sintesi? Che cambiano i riferimenti? Cioè perché se ci pensate bene abbiamo visto ormai un mese fa come si è cambiato lo suo scenario di mercato. Lo scenario di mercato è cambiato in tutte le sue connotazioni. C'è un mercato diverso dove ci sono meno soldi. Sono cambiate le brand perché le aziende hanno capito che non possono più comunicare come facevano una volta. Sono cambiati i pubblici perché i consumatori non sono più passivi ma attivi da vari punti di vista e di note sono cambiati i media perché lo scenario dei media oggi rispetto a cinque anni fa è completamente diverso. Banalmente non si può dimenticare che esiste il web con tutte le sue linguaggi e caratteristiche. Non si può nemmeno dimenticare che la televisione è diversa rispetto a cinque anni fa. Esiste una pluralità di canali, esiste una pluralità di linguaggi e dal nostro punto di vista di chi progetta il branded content esiste una pluralità di opportunità. Cosa dice questa slide rispetto alle aziende? Che anche le stesse aziende, questa è una ricerca ovviamente del 2012 negli Stati Uniti, però questa è una verità effettiva anche in Italia ormai, che individuando un elenco di obiettivi generali strategici indipendentemente dalla tipologia di prodotto che le aziende vanno a individuare, come vedete ormai la scala dei valori, non che le aziende si siano dimenticate che è importante vendere, ma hanno capito che per vendere continuare a picchiare con lo spot non è più una strada che permette di raggiungere risultati come poteva permettere di raggiungere tempo fa. Perché le persone non si approcciano più ai media con una logica passiva e perché comunque richiedono partecipazione, accoglienza e condivisione del mondo dei propri valori. Quindi come vedete, considerando alla sinistra del grafico la reputation e alla destra del grafico i sales, abbiamo un'inversione di tendenza. Questo grafico può anche essere letto come un progressivo tendenziale aumento di fiducia verso quelle modalità di comunicazione come il branded content, che come abbiamo sempre detto non è che puntano a diminuire le vendite, ma non hanno come primo e immediato obiettivo quello di incidere sulla vendita, ma quello di riposizionare il brand e di raccontarlo in maniera nuova attraverso le proprie caratteristiche ai consumatori. Ovviamente la logica è che non agiscono nel breve periodo, ma agiscono nel medio-lungo periodo pensando che ci possa essere un effetto retroattivo positivo anche sul tema delle vendite. Quindi di conseguenza cambiano gli obiettivi che vengono ad essere perseguiti e il content marketing, quindi un modo all'interno del quale sta anche il branded content, quindi un modo per costruire comunicazione attraverso i contenuti diventa un nuovo modo di approcciare la comunicazione. Come vedete questa scala è un altro modo di leggere più preciso, più focalizzato la precedente slide, nel momento in cui noi diciamo che il passaggio percettivo a livello di aziende è dalla sales alla reputation, il passaggio a livello di strumenti e dallo spot allo storytelling e quindi alla costruzione dei contenuti, ecco che anche in termini di risultati e di obiettivi, la brand awareness o comunque la costruzione di un rapporto quindi di fidelizzazione a medio-lungo termine, quindi lavorare sulla retention e sulla loyalty diventano nella scala dei valori il primo sistema appunto di momenti, di variabili su cui andiamo ad agire. Quindi dal punto di vista della big idea, oggi ne abbiamo viste per vostra bravura e per mia fortuna un bel po' di big idea, nel senso che ormai le buone idee sono idee che uniscono queste nuove categorie di salienza, perché se il consumatore cambia non lo accogli più e non lo individui più, non lo tieni soprattutto attaccato a te come marca solo con una comunicazione puramente commerciale o funzionale, ma come una comunicazione che, faccio l'esempio dell'idea di Cano ma anche dell'idea di Bauli, unisce etica, dialogo, storie e autenticità. Ma se ci pensate, la matrice della buona idea deve avere dentro e deve toccare tutte e quattro queste variabili, perché il consumatore che ormai per alzare il sopracciglio, per non uscire dal sito web, per rimanere attaccato nella navigazione come nella visione televisiva ai contenuti di una brand, chiede che abbiano queste caratteristiche. Diciamo che l'epoca del mulino bianco, è stata un'epica oltre che un'epoca, dove l'etica non esisteva se non in termini di un'etica di cellofan, il dialogo non esisteva perché veniva proposto un'idea di famiglia perfetta, la storia era una storia ideale ma non reale, e di conseguenza sicuramente non si parlava in termini di autenticità, quindi quell'epoca è definitivamente tramontata. In generale, e questo è un tema importante, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di Canon, ovviamente più che di Bauli, però in realtà è un tema trasversale a tutte le marche. Siamo alla fase, a me non piacciono tantissimo questo tipo di formula, e mi interessa più che altro che voi ne possiate trarre, diciamo quello che è l'assetto fondamentale in termini di pensiero. Da un marketing anni 80, chiamiamolo così, dal brand verso tutti, ad un marketing più recente, diciamo del passato prossimo, brand verso molti, ormai siamo arrivati al marketing puntuale, verso pochi ma buoni, quindi lavorare sulle passioni, lavorare sulle community, lavorare appunto su etica, dialogo, autenticità, in maniera tale che la comunicazione non sia semplicemente una cosa che passa, ma una cosa che resta. Quindi, produzioni specifiche, consumi personalizzati, appartenenze di nicchia e media individuali. Questi sono gli asset, diciamo, della nuova comunicazione. della nuova comunicazione. È ovviamente un tipo di marketing che, se lavora su questo tipo di community, ha necessità di osare, ed è un'attività più complessa, proprio perché decadono quelle che sono le categorie di base, sia in termini di utilizzo dei media, sia, lo abbiamo visto stamattina, anche in termini di individuazione del target. Non esistono più i target socio-demografici, o perlomeno, se si si aggancia solo a quelli, si fa un tipo di comunicazione che ormai non funziona più. e la rivoluzione è ora, appunto, dove, appunto, come abbiamo detto, l'avvento del web, non tanto come strumento di per sé, ma come percezione, come qualcosa che ha cambiato la percezione della comunicazione, ha provocato una serie di trasformazioni sostanziali, nel modo con cui le persone si relazionano alla comunicazione e quindi con cui si relazionano ai marchi e ai prodotti. In sostanza, la sintesi fondamentale, che è coerente con quanto detto prima, è che il consumo, l'utilizzo, prima che essere un comportamento economico, è ormai un agire umano e sociale. sia perché chiunque di noi, quando ormai sceglie non solo di impulso, non solo emotivamente, ma magari banalmente cercando sul web quella che è la reputazione del prodotto, della marca, ma anche perché nel momento in cui questo è possibile, il fatto di considerare l'agire umano, il consumo come un agire umano e sociale, significa parlare a chi ha i davanti, non semplicemente come un consumatore, ma come un essere umano che ha propri gusti, che vanno assolutamente rispettati. Quindi stiamo, il consumatore, tornando ad una vecchia categoria, è ormai una persona a tutto tondo, e quindi nel momento in cui si va a comunicare, non si può dimenticare questo elemento fondamentale. Empatia e fiducia. Azioni per bene. Quindi, di conseguenza, faccio un paragone banale, ma non tanto banale, se voi pensate, la prima forma di narrazione con cui chiunque di voi si è trovata di fronte, probabilmente era il genitore, di solito la madre, ma potrebbe essere anche il padre, che gli raccontava una storia, la favola della buonanotte. Perché questa favola avesse efficacia? Doveva essere una buona storia, doveva avere un buon ambassador, e partendo dal presupposto che le fiabe sono quelle che tutti conosciamo da anni, quindi la storia era buona, che il genitore fosse un ottimo ambassador, qual è il concetto fondamentale che manca per chiudere il cerchio sullo storytelling e sulla fiaba? è il fatto che appunto questa fiaba mantenesse per tutti noi un'idea di ingaggio, avesse non fosse sempre la stessa fiaba, quante volte i bambini dicono papà mi racconti la fiaba di Bianca Neve, ma me la cambi? Perché è un primo elemento di ingaggio, è la sorpresa. Come sapete benissimo, tutte le serie televisive e la base della serialità, storia orizzontale, storia verticale, vuol dire, ci deve essere un tirante narrativo orizzontale, che ti permette di orientarti e sostanzialmente ti rassicura nel percorso di comprensione e degli elementi di verticalità che ti sorprendono e che quindi danno varietà a quello che è il racconto. Quindi è un'epoca dove siamo pronti ad uno storytelling elevato e di qualità, anche sulle marche, anche per il fatto che anni di serialità hanno aiutato a prepararci a questo tipo di fruizione. Quindi siamo pronti sin da piccoli, perché ci hanno sempre raccontato delle storie, ma siamo particolarmente pronti adesso perché siamo dentro un mondo dove ciò che funziona sono le buone storie. Quindi il successo della narrazione è collegata al meccanismo, dove appunto sostanzialmente al di là del gaming in generale, anche nel momento in cui ci vengono raccontate delle narrazioni, ci sia un perfetto mix tra epica ed epopea. Quindi ci sia l'eroe, ci sia il nemico, ci siano tutta una serie di dimensioni che percorrendo in maniera diversa e rispettando la specificità del singolo media, comunque ci permettono di recuperare la storia e di sentirla come la nostra storia. Questo è un primo take away. In generale, quali sono le tre regole macro in questo caso, poi avremo anche delle regole micro, per costruire un buon branded content e quindi un buon storytelling di marca? Allora, se ci pensate, sono tre macro qualità che le idee di Canon di stamattina, ma anche le idee di Bau li avevano. aderenza rispetto al brand, che non vuol dire mettersi a 90 rispetto al brand, significa capirlo... quello qui è una delza. Ah! Ah! Scusa! Il gelato... Ah già, perché non va, quindi non si è sentito, per fortuna. Mi tolgo questo? il gelato... Ah, il gelato a lui! Ah, sì, scusate, avrei qualche idea. Non datemi il gelato. Guarda, mi fido di più. Ma pensavo fosse una battuta, il gelato, dico. aderenza... diciamo, aderenza... quindi, tre driver fondamentali. Aderenza rispetto al brand, quindi capacità di capirlo e di interpretarne i codici. focalizzazione sul target profilato, come abbiamo detto prima, eh... avendo la consapevolezza che non stiamo più parlando a molti, ma a delle community, e notorietà e quindi penetrazione del contenuto. Cosa vuol dire? Cercare delle storie che non siano difficili da comprendere, ma che lavorino sul tema dell'emozione e quindi che possano essere percepite come storie che chiunque può sentire come proprie. Ovviamente questi tre fattori non agiscono come compartimenti stagni, ma sono miscelati opportunamente come dei buoni ingredienti all'interno del buon branded content. E adesso arriviamo invece a quelle che sono delle regole un po' più specifiche e che fanno il bene del nostro lavoro e il bene anche delle storie che raccontiamo. Quindi la prima regola è che il brand in quanto editore sia veicolo di un'esperienza unica e distintiva. Provate a pensare, l'idea, in questo caso uso l'idea di Bauli perché è più facile essendo un po' più roboante ed avendo un budget a disposizione più importante come esempio. però nel momento in cui noi costruiamo un branded content dobbiamo dare l'idea che sia qualcosa che non esisteva prima in maniera tale che la marca nel suo nuovo ruolo di editore possa essere riconosciuta dai consumatori come qualcosa che regala un'esperienza nuova, forte, regala qualcosa in più dell'essere semplicemente un contenitore di prodotti ma regali emozioni, qualità, opportunità in più. Di conseguenza il primo elemento è cercare di collegare lo storytelling a delle esperienze uniche e distintive mai viste prima. Vi facevo l'esempio la volta scorsa di Jack Daniels il primo anno loro hanno regalato, sono partiti da un concetto noi siamo un brand rock e regalando in egrita l'opportunità del loro prima tournée negli Stati Uniti regaliamo allo stesso tempo al nostro pubblico un'opportunità mai vista prima e in secondo luogo regaliamo un racconto che ha dentro i nostri valori i nostri stilemi in terzo luogo regaliamo un bel programma televisivo estremamente mainstream dove raccogliamo il meglio dell'America e del rock di conseguenza abbiamo il bridge tra la prima e la seconda regola il brand integrato e coerente con il racconto quindi studiando il brand individuando un'esperienza utile e distintiva riusciamo anche più facilmente a trovare la maniera per cui il brand non solo come stilemi non solo come logo non solo come storia ma soprattutto come valori possa essere integrato e coerente con il racconto allo stesso tempo però abbiamo altre due importanti regole che sono più spostate sul versante di chi guarda di chi usa di chi si alimenta di questi contenuti in quanto il contenuto deve essere utile e interessante di per sé non bisogna mai superare il limite per cui il contenuto diventa autoreferenziale per il brand perché comunque deve essere una cosa che chiunque di noi guarda con interesse accettando che ci sia dentro anche una comunicazione di brand e soprattutto che sia un contenuto cross mediale aperto agli user quindi costruendo delle dimensioni di engagement e di partecipazione che costruiscono quel circolo virtuoso che ci permette effettivamente di parlare di branded content come un'esperienza cross mediale e multipiattaforma fino a qui ci siamo quindi le storie di qualità agiscono alla fine su tre direttrici principali un buon ingaggio per cui sono portato a volerla ascoltare non sono obbligato ad ascoltarla il passaparola non solo la voglio ascoltare ma la voglio raccontare quindi la voglio condividere con i miei amici e il terzo momento è la partecipazione è una storia talmente forte regalata da un brand talmente interessante e raccontata in maniera così accattivante che mi mi fa sentir parte di una comunità piacevole ed inoltre mi fa sì che io ne voglia parlare voglio far sì che questa partecipazione sia una parte importante di me tanto da poter essere ospitata sulla mia pagina di facebook tanto da poterla shareare nei gruppi da portarla nei miei ambienti non solo digitali ma anche umani con piacere e con soddisfazione quindi volendo una volta tanto fare una bella slide roboante nell'epoca dello storytelling la pubblicità ha cambiato nome oggi si chiama contenuto e di conseguenza quando si cambiano le tavole della legge si cambiano anche i comandamenti il primo comandamento è che la storia non ha piattaforme se è ricca se è potente se è intensa può viaggiare ovviamente con opportune adeguamente su tutte le piattaforme questo cosa vuol dire vuol dire che ogni piattaforma modifica la storia quindi esiste una narrazione trasmediale ma non si può pensare semplicemente che la distribuzione cross platform di un contenuto significa spillolare e buttare da un'altra parte va fatto un pensiero tale per cui ogni media ha proprie logiche e propri linguaggi e va pensato come un ambiente non immediatamente di seconda mano rispetto alla televisione ma con proprie caratteristiche ben precise e il terzo comandamento ormai d'uso comune direi che è la nostra parola d'ordine il branded content non è product placement non è sponsorship non è iniziativa speciale ma può nella sua potenza nella sua capacità di essere concetto inclusivo incorporarle tutte in un unico racconto ovviamente questa è una visione che io vi porto non è la visione condivisa è una visione inclusiva legata al business per cui detto che noi sappiamo cos'è il branded content come abbiamo visto stamattina quando parlavamo di extreme makeover home edition nel momento in cui io lavoro di adattamento nel momento in cui l'adattamento sente e viene fatto in funzione dell'esigenza del brand e va a generare un'idea che cita l'idea precedente ma la modifica in questo caso abbiamo siamo borderline ma possiamo comunque considerarci come parte di un mondo di branded content dove in questo caso la sponsorship evolve a spin off di contenuto di qualità questa cosa non è altro che la ratifica diciamo sostanzialmente di quanto ci siamo già detti quella per cui quando io vi ho sempre detto partite dall'idea partite dall'idea partite dall'idea perché in realtà quando l'idea è forte poi le declinazioni si trovano diventerà e dovete sempre lavorare a 360 gradi poi sarà il cliente a dirvi parlavamo stamattina del fatto della promozione a un pack su bauli voi sviluppate sviluppate e fate parlare i vari media poi sarà il cliente a dirvi io il concorso a un pack l'ho già chiuso chi se ne frega ma non castratevi a priori perché altrimenti state sicuri che se non sviluppate uno di questi canali non sviluppate il trade non sviluppate il digital engagement non sviluppate l'integrazione con lo spot la promozione editoriale o l'attività PR digital o un field o il format tv vi diranno ma perché non questa cosa non c'è vi sono chiari tutti questi scusa punto vendita o punto di vista e questo è un altro modo di vedere la slide precedente ed è l'esito ovviamente l'esito positivo del brand content nel momento in cui crea entertaining potente è anche quello di permettere al cliente di conquistare dei canali quello che si parlava anche prima per Meridia dei canali di comunicazione che uniscano all'attrazione la reach la partecipazione al word of mouth che vanno anche oltre la semplice pianificazione media perché in qualche maniera significa che il volano positivo di una cosa di cui si parla e di cui si parla bene permette di superare è un po' il grafico che facevamo l'intenzione diciamo a pagamento e si va oltre questa cosa e si va nel mondo della conquista di spazi di comunicazione che in qualche maniera vanno oltre le stesse intenzioni del brand ma se vengono alimentati in modo positivo retroagiscono in maniera analogamente qualitativa sul brand questo è ovviamente molto importante vi faccio un esempio nel caso di Jack Daniels è stata il calcolo che è stato fatto è stato quello per cui il brand ha conquistato alla fine del progetto circa 250 mila euro di spazi gratis che se avesse dovuto pianificare avrebbero avuto un valore di 250 mila euro quindi quando si lavora bene ovviamente stiamo parlando di un progetto di otto mesi di un brand che ha investito un budget importante di un brand che ci crede in senso forte e non semplicemente in senso così formale come un esperimento che ci sta credendo da quattro anni però i risultati arrivano e questa è la l'ultima slide in cui sostanzialmente il buon branded content che riassume le altre la logica 360 la logica dei paid on channel e dei gain channel e quindi sostanzialmente noi cosa abbiamo che il buon branded content riesce ad unire la logica di breve periodo costruendo la famosa coda lunga del contenuto che permette di distribuire la comunicazione anche oltre la soglia che in questo caso è ovviamente questa dei media tendenzialmente pagati questo questo ne abbiamo già parlato adesso io vi farei vedere un esempio un video giusto per prendere un po' di strada perché abbiamo parlato di alcune cose però ce ne sono ci sono alcuni progetti che noi abbiamo fatto in questi anni che sono riusciti a rendere pratica diciamo questo queste intenzioni e quindi sono riuscite a rendere pratica di lavoro e quindi pratica anche in video quelle che sono le regole di come il format incontra il brand in maniera tale che al di là di quello che qui c'è scritto quindi la declinazione dei codici colori la presenza del prodotto e la presenza di personaggi e storie riferite al mondo del brand possiate anche con questi piccoli diciamo questo piccolo riepilogo vedere come questo può avvenire anche non se muore lo schermo ma se riusciamo eccolo qua io odio tac sembra una lotteria di rigori ok allora quello di Jack Dennis ve l'ho già fatto vedere la volta scorsa giusto quindi evito di adesso quello che vi faccio vedere è il promo che riepiloga il progetto fatto con Tezenis questo questo perfetto allora ciao allora il progetto fatto con Tezenis ve lo mando in play se vorrebbe andare sì ma speriamo il movimento della fine è in continua crescita gridosa espressione tutto l'info le DJ stanno avendo successo in Italia e in tutta Europa per questo Tezenis ha deciso di cercare le nuove regine della consola italiana attraverso il progetto Tezenis Grandi Jet glamour talento fashion e una grande passione per la musica sono le caratteristiche principali che accomunano le ragazze che sono state selezionate sul sito www.tezenis.it hanno aderito 130 candidati ma solo 8 di loro sono passate a una fase di dare sono 8 di gente con grande personalità tanta energia e tanta voglia di esprimersi 8 ragazze in grado di dare davvero del più da torcere ai colleghi maschi insieme a mattina di DJ sono 8 le finaliste che sono salite sul palco del 15 milano per un programma televisivo di 4 puntate in onda su DJ TV una grande festa per elezioni la regina delle DJ una nota all'ultimo beat dove sono stati il ritmo la passione e il gremor a far brillare la futura stella della consola è un po' di ansia che va e tiene ma sto cercando di tranquillizzarli il momento della performance acquina tutta l'energia del crescio tra di DJ le reazioni a caldo appena terminata la performance e subito lo qui vedete la mia smittanella da più che vede la mia smittanella sull'acqua come se muoio il sogno grazie a te grazie a te eeeh no ho fatto per me la personalità mi ha condito molto però secondo me questa questa sera c'è il 4 da rai interpretata simbiosi tra valori del brand e spiegato del programma ogni episodio ci accompagniamo quindi dentro un sonno pieno di talento la missione di affermarsi con la propria musica la propria personalità il proprio look Glenn di gente l'unico talent dove i sogni non muoiono a lampa ma continuano a ballare eccoci qua bene allora questo è un esempio di come si possa lavorare su un brand che è apparentemente lontano da un mondo cercando di eh dire un percorso che possa eh sostanzialmente andare andare oltre la semplice attinenza di prodotto ve lo riepilogo ex post e poi vediamo anche il secondo esempio avete più o meno voi avete in mente il percorso che ha fatto Tezenis negli ultimi anni vi è abbastanza sì eh sai questa è una grossa diatriba nel senso che eh se anch'io dal mio no 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 ma raccolgo diciamo l'osservazione nel senso che chiunque è nato in una epoca chiamiamola pre elettronica ritiene che il verbo suonare non sia diciamo attinente all'attività dei dj eh io stesso non sono un grande appassionato di musica elettronica però eh recentemente abbiamo fatto una una ricerca su quelli che sono eh gli effetti comunque il 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 valore e la potenza del 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 movimento della musica elettronica che abbiamo e in effetti io ti potrei rispondere con una frase di David Guetta che diciamo magari non è un filosofo però è uno che non ha proprio sbagliato la professione nella vita e ha detto eh ormai eh siamo noi dj le vere rockstar e questo è può essere vero falso però è sicuramente vero che ormai eh noi ci abbiamo fatto questa ricerca perché comunque sempre per per Jack Daniels con cui stiamo lavorando per il quarto anno abbiamo cercato anche di uscire da una visione un po' classica del rock per capire al di fuori dei classici percorsi del rock cosa si muove e quanto queste nuove sonorità ma anche queste nuove culture anche queste nuove sensibilità possono contaminarsi con rock senza diventare una cosa di carta pesta indipendentemente da questo noi abbiamo cercato di innovare il concetto di talento a cui Tezenis aveva sempre collegato la propria comunicazione sapete che erano legate ad un concetto di talento molto classico mainstream in qualche maniera hanno sponsorizzato amici per tre anni eccetera eccetera il signor Tezenis esatto e quindi la richiesta con cui loro sono venuti da noi è esiste qualche elemento di come posso dire del talento o comunque della creatività o comunque dell'affermazione che possa essere collegato al nostro target che è prevalentemente femminile e che possa dare un'idea un pochino diversa e un pochino meno diciamo codificata in questo caso vediamo basta far così in questo no non basta far in questo caso la risposta una delle tante ovviamente non è l'unica l'unica possibile è stato costruire un contest legato diciamo a delle ragazze che di per sé potessero avere l'opportunità e la possibilità di esprimersi attraverso quella che loro considerano una forma d'arte ancora prima che un lavoro ripeto il giudizio il giudizio filologico musicale lo lascio a voi la cosa interessante che vi do come take away di questo ragionamento è anche con un brand estremamente istituzionale seppur in qualche maniera che sta tentando di costruire dei percorsi di comunicazione diversi siamo riusciti e quindi in generale è possibile trovare una strada dentro una strada già percorsa per costruire un progetto di comunicazione che non sia semplicemente la sponsorizzazione di un programma insomma o la sponsorizzazione di una borsa di studi il prossimo promo che vi faccio vedere è legato a Microsoft ed è legato ad Xbox in questo caso vi do due o tre elementi di di brief prima e poi così anche il promo magari riuscite ad interpretarlo al meglio Microsoft noi con loro abbiamo lavorato negli ultimi due anni si trovava in una situazione di mercato per certi versi simile a quella di Canon nel senso che era arrivato a su a posizionarsi in un segmento di mercato quello delle console per ultimo rispetto ad altri competitor nel senso che era all'interno di un di un segmento dove PlayStation era estremamente forte e dove Nintendo con la Wii aveva sostanzialmente sbaragliato la la concorrenza essendo i primi a proporre un rapporto con la console che non fosse legato al tasto ma alla cinetica che io di voi penso che tutti conosciate la Wii era il primo il grosso successo è stato perché aggiungeva una logica di divertimento alla partecipazione Xbox fa un salto ancora più in questo caso con la Kinect propone la prima console dove il controller sei tu quindi dove non esiste più nulla che media rispetto tra te e il gioco nel senso che per chi non lo sa la Kinect è uno strumento veramente raffinatissimo per cui esiste un sistema di telecamere che ti inquadrano e che sostanzialmente raccolgono quello che è il tuo movimento di conseguenza se tu devi giocare a tennis giochi facendo così se devi ballare adesso io non sono un grande ballerino anche perché non volevo spaventare lui vista di stasera ma voglio dire balli e effettivamente il gioco riprende la tua cinetica questo è una cosa molto importante ma dovevano recuperare uno svantaggio competitivo di conseguenza ci hanno chiesto di costruire un programma televisivo dove una strategia di branded content di cui questo programma televisivo è una una delle componenti dove questa cosa emergesse la nostra proposta è stato un game che mettesse in competizione le famiglie una sorta di sfida di pianerottolo attorno alla alla Kinect e attorno a diversi giochi della Kinect dove una disputa di condominio potesse in qualche maniera giocarsi sul campo e quindi risolversi sul campo questo per rispondere a tutta una serie di esigenze di Microsoft che erano non solo veicolare il gioco ma farlo diventare come lo chiamano loro una componente fondamentale dell'arredamento domestico quindi una parte ineludibile del dello stare in casa in famiglia vediamo se riusciamo sta cippa ecco best of the block è l'unico gioco che ti porta dentro il salotto dei tuoi vicini di casa ogni settimana una famiglia ha la possibilità di porre fine a una lunga disputa condominiale sfidando i vicini in modo amichevole e divertente perché sono qui noi abbiamo questa famiglia qui noi diamo un po' fastidio perché io faccio un po' i posteggi delle macchine un po' messi male sono foto vere queste non sono create da Cesare con Photoshop non ci conoscevamo ancora una famiglia lancia la sfida quando l'altra la accetta il nostro presentatore porta entrambe le squadre ad allenarsi sul campo qui con l'aiuto di una special guest le due famiglie imparano tutto quello che serve per migliorare la loro performance in un gioco di Xbox Kinect nel caso dei migliari e dei tessera il gioco è il baseball e il loro allenatore è una pop star malata di baseball è il solito di fase i farsi caro sul campo tutti imparano a lanciare a battere e a esultare da professionisti a casa entrambe le famiglie hanno un'ultima possibilità di esercitarsi davanti a un televisore quando la sfida quando la sfida sta per cominciare tutti i vicini arrivano per guardare e fare il tifo gli sfidanti entrano indossando i loro accappatoi forza cominciamo la sfida sotto al giocale nel giro di pochi minuti i vincitori vengono premiati e gli sconfitti pagano peggio nel condominio è tornata la pace o no? come vedete è un meccanismo semplice divertente per trovare una maniera carina per rappresentare il prodotto in questo caso Litbox Connect all'interno del tessuto familiare ovviamente andando a risolvere delle piccole dispute condominiali insomma ecco io mi fermerei qui e lascio a questo punto la parola a dottoressa Alessandri perché applausi 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 Dia Grazie a tutti.